Buongiorno a tutti dagli Uc65 In giornate di coronavirus, ieri si è disputata la partita tra Italia femminile di calcio e Nuova Zelanda, vinta brillantemente dalle nostre guerriere per 3 a 0 Una partita dominata dall'inizio alla fine Come dicevo, una partita dominata dall'inizio alla fine Con calciatrici che hanno, se non debuttato, disputato le prime partite in nazionale Una graditissima sorpresa al portierino Che pare al rigore che poteva dare l'1 a 1 alla Nuova Zelanda In gol le solite veterane Girelli, rapinatrice d'area Bonassea con un bel gol di esterno E Tarenzi che si toglie la soddisfazione di fare il 3 a 0 Quindi un giusto tributo anche in un momento difficile come questo Perché sembra che queste ragazze debbano essere sempre offuscate da qualcosa che gli toglie la gloria E quindi l'11 marzo queste ragazze di ferro andranno a fare una finale contro la Germania Sempre loro Sempre la Germania Loro, nelle finali, ci sono sempre Ma questa volta ci sono anche le nostre ragazze Non saranno favorite, ma saranno un osso, spero molto duro, da rodere Per le giocatrici tedesche Forza Italia Femminile Un saluto dagli UCC65